più rilassati perché comunque vada le cose, uno sul podio ce l'abbiamo, quindi cambia la musica anche qui siamo un po' meno in punta di sebbia, anche se lo sono sempre quando scende Mörg soprattutto oggi, come è stato bravo nella prima manche, 3 centesimi su Giorgio Rocca lotta fratricida, vediamo Mörg, partito molto deciso, molto bene qui Giorgio aveva sbagliato un po' in queste porte, invece lui non ha avuto il minimo problema molto buona nazione, infatti è davanti, 9 centesimi ha guadagnato ancora qualcosa da Giorgio Rocca, che però era dietro poi però Giorgio forse aveva perso così e poi era tornato forte, adesso vediamo lui continua a essere lineare, perfetto Mörg tranno secondo su questa pista che gli piace molto, impeccabile non sta sbagliando niente, perfetto, perfetto, 37 ha guadagnato ancora, è davanti tanto e sta rischiando, mamma mia, si mangia i palli, si mangia le porte è deciso qua, attenzione, molto importante per lui imboccare veloce il piano perché lui sul piano è un po' sotto Giorgio, quindi ha 34 centesimi sembra che sia entrato bene, guarda come si spiana giù guarda come si spiana, queste le porte che gli ha messo Carca per agevolare un attimo un po' più angolata, ha tracciato per lui lì e ce la fa, ce la fa e davanti Mörg, che bello 29 centesimi, abbiamo due azzurri in testa primo momento grazie a tutti grazie a tutti